Dal centro di Trieste alla stazione ferroviaria di Villa Opicina per poi raggiungere in treno Lubiana grazie ad un biglietto unico che consente di viaggiare sui mezzi di due operatori di trasporto pubblico a una tariffa vantaggiosa. E' questo il risultato di un'azione sperimentale che ha preso avvio agli inizi di marzo e che sarà testata fino alla fine di agosto 2019. Grazie alla collaborazione di Trieste, Trasporti e delle ferrovie slovene i cittadini possono infatti acquistare online il biglietto integrato e usufruire così del servizio. L'attività rientra nell'ambito di un progetto europeo finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale a valere sul programma Interreg Central Europe 2014-2020.